Un'attività di criminalità colpisce la città. Le strade non sono più sicure. Gol già hanno aumentato il 50%. Abbiamo una tucina di rapporti ogni giorno sulla droga con l'antiobigidi. Gli uomini cantano come molte. E sto conseduto con le mani legate per curare gli interessi delle politiche. Vado qui, vado a inventare la mia anima satana di lavoro. Cosa vuoi fare? Se si desidera salvare la città dovrebbe gioccare sporco. Un'attività dei comici. Regimenti Thereby è ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.